weee magabon com'è sto sprint stamattina no so con te lo sai cos'è il cuore mio è che quando non fai la radio mi sento molto più rilassato se proprio te lo devo dire e quindi sto tranquillo capito e poi sto fatto che comunque dobbiamo recuperare due giorni perché ci serve per rimetterci in motolone di ecco perché sto sto così sto contento capito beh io ho accompagnato giuseppe alla festa stava tutto gasatissimo di questa festa e niente ma vado al lavoro vado a vedere di fare qualcosa stamattina stamattina proprio ho fatto un cacchio va bene mi raccomando non sbirciare assai voglio vi apro l'occhio la scalinata capito vabbè tanti significati bellissimi ma ci sentiamo dopo ciao